Oggi si inquadra in una più ampia monogra strategica meritata dal Comando Generale dell'Arma con l'istituzione delle sezioni EPPO, avvenuta a giugno del 2021, che operano in campo nazionale a supporto delle attività di indagine della Procura Europea. La Procura Europea, come è noto, è un organismo sovranazionale giudiziario che ha sede in Ursemburgo ed ha dei pregi distaccati in tutta Italia. Proprio nel Comando Provinciale di Palermo opera la sezione EPPO dell'Ubio Investigativo che ha la funzione specifica di effettuare sia l'accordo informativo in ambito della regione Sicilia e Calabria sia attività di indagine dirette volte a tutelare gli interessi economici della Comunità Europea su copiosi e finanziamenti pubblici che proprio in questo periodo sono fondamentali proprio per tutelare anche il piano nazionale di ripresa e resilienza che arriverà sul territorio nazionale. Grazie. Grazie.